Ciao ragazze, questa mattina sono andata al mercato perché sono stata contagiata vedendo in giro tutte le varie bamboline, allora sono andata a cercare giustamente i corpicini delle nostre bamboline e fortunatamente li ho trovati perché di solito mio amico pakistano di fiducia diciamo, li finisce subito, perciò li ho trovati e li ho presi 5 per ora e li ho pagati 1 euro poi praticamente ho preso anche le sfere perché voglio provare a fare anche le bamboline di Alessia Principe, quindi queste qua sono quelle di sfere di legno che vanno inserite nella gonnellina, ho preso anche queste, poi ho preso un po' di monachelle e anellini in acciaio, ho preso anche le chiusure, mio marito mi ha trovato gli orecchini a clips, si è messo a ravanare nei sacchi dove lui aveva tutte le scorte e praticamente ne ha trovati e così li abbiamo presi due, poi ho preso un filo di gocce nere, che nere non le avevo e oggi le ha portate, quindi viste e prese, poi ho preso un filo di cipollotti rossi, e un filo di cipollotti neri, bellissimi, poi ho preso due perlozze per fare la testolina perché l'altra ce l'avevo e altre perle così grandi ce le ho insomma e quindi ho preso questi due, poi ho preso la catena di ottone, cercavo quella di alluminio ma lui mi ha detto che anche l'ottone non si rovina e adesso voglio provare e vediamo un po', e poi questo, praticamente sono due fili di questi cipollottoni grandissimi, praticamente ho detto, visto che erano dentro la bustina, ho detto senti ma quanto li fai tutta la bustina, lui mi fai 4 euro, gli dico no dai 4 euro, stai scherzando, che ho fatto, vengo sempre a portare bene, lui mi fa, vabbè senti, perché se tu mi fa 2 euro 50, no vabbè dammi 2 euro alla fine, va bene, e allora sono riuscita a farmi dare anche tutti questi cipollottoni per 2 euro, ci ho guadagnato, meno male, e niente, questo è, diciamo che è tutto, perché è stata proprio una volata al mercato, perché mi servivano veramente i corpicini, i corpi, i corpicini delle bamboline, niente, perciò comincero a prepararne qualcuna, visto che comunque mi piacciono, mi piacciono tanto a me, quindi penso che mi piacciono anche alle altre, quindi va bene, preparerò i vestitini per le mie dolline, e niente, questo è tutto, poi domani dovrebbe arrivare un altro pacchetto, ma è il premio di giveaway a cui ho partecipato e ho vinto, e poi niente, ve lo faccio vedere, quindi per adesso è tutto, vi saluto, un bacio, ciao ragazze!